Rappresenta da oltre un secolo un pezzo di storia di Milano la Pirelli, celebre casa di pneumatici. I dipendenti sono preoccupati per il futuro dell'azienda. Questa mattina dalla sede di Viale Sarca si è mosso un corteo di protesta voluto per chiedere alla proprietà risposte rispetto al futuro. I sindacati contestano la scelta di spostare all'estero ampi settori legati alla produzione. Mentre la fabbrica di Bollate vive un periodo di crisi, Pirelli ha deciso di delocalizzare aprendo un nuovo stabilimento in Romania e investendo in maniera significativa in Turchia e nelle altre sedi europee. Siamo qui per dire a Tronchetti Provera, alla famiglia Malacalza, che è l'altra proprietaria, di fatti ci sono note lotte intestine, che i lavoratori della Pirelli di Bollate non ci stanno a finire in cassa integrazione e poi in mobilità. Attualmente l'impianto di Bollate è temporaneamente chiuso con 370 dipendenti in cassa integrazione a zero ore. Dal quartier generale della multinazionale spiegano che il provvedimento si è reso necessario dopo il rallentamento della domanda in Europa. Un segmento di prodotto, quello di Bollate, che risente della concorrenza asiatica. I sindacati chiedono una politica industriale che punti sulla qualità, sull'eccellenza del prodotto per rilanciare l'impianto di Bollate. La situazione attuale è che noi quest'anno, nel 2012, abbiamo fatto 115 giorni impianto di cassa integrazione e che questa crisi, dicono molti economisti, durerà per molto e se la Pirelli, che è inattivo, non investe una grossa quantità di soldi, quindi investimenti di prospettiva nel nostro sito, noi ci spegneremo piano piano. Ovviamente noi stiamo prevenendo.